Il turno, peschiamo la terra E' Vittoria! Non è completa immondizia, Simo! Buonasera amici miei, sono proprio io, sono Suokamicali Sukun, il vostro senso segnatamente scarso E ci siamo, questo è il momento topico, il momento che stavamo tutti aspettando Il momento di bullizzare un po' Simone Simone è il nostro caro amico su Discord L'amante del blu, del mono blu Che ha voluto mandare una lista per Ro E se non sapete cos'è Ro e vi siete persi gli ultimi 6 episodi Questo è il settimo Ro è un nuovo formato di Magic mal giocato E' un sistema di valutazione dei mazzi Molto crudo, violento e cinico Praticamente prendiamo un mazzo In best of one lo portiamo in ladder Facciamo 4 inconti E lo valutiamo in base alle sconfitte 4 sconfitte significa che il mazzo è totale immondizia E vergognatevi di averlo messo insieme 3 sconfitte Il mazzo è imbarazzante Potrebbe migliorare Però tanto vale cancellarlo e ripartire da zero 2 sconfitte Il mazzo è mediocre E' un buon punto di partenza per espandervi e migliorarlo Una sconfitta è un buon mazzo Una sconfitta è un buon mazzo Bravi Zero sconfitte è una delle due O ci abbiamo un culo pazzesco Oppure il mazzo è una bomba Il metodo di valutazione è estremamente semplice Magari non sarà preciso Magari non sarà curato Magari non sarà veritiero Però è il nostro metodo di valutazione Quattro partite Hai per dimostrare il tuo valore E oggi portiamo questo mono blu Mono blu è il colore preferito Il blu è il colore preferito di Simo Simo è un grande Membro della community di magic mal giocato Ed è un amante del blu E si lamenta in continuazione Che il blu fa cagare a spruzzo Soprattutto in versione monocolore E chi siamo noi per dargli torto Non lo so Il blu è sempre stato uno dei colori più forti di magic Nella storia di magic Probabilmente ultimamente L'hanno depotenziato un po' Singolarmente Però rimane il colore principale A supporto dei mazzi contro E adesso vediamo con questo mazzo qui Che è un mazzo che ha messo insieme lui Vediamo Con gelo severo Un mana blu Rimbalzino Di una creatura Un incantesimo controllato dall'avversario Contro invocazione Rimbalza La creatura Questi sono chip removal Sostanzialmente Rimbalzini Disperda di assenza Una counter spell Per due mana Che neutralizza La magia creatura dell'avversario Le fate dei desideri Le fate dei desideri che con l'avventura Esaudito per quattro mana Ci permettono di guardare nella nostra sideboard E aggiungere una di quelle carte Alla nostra mano Dopo guardiamo la sideboard nel dettaglio Inventario frenetico Una bella cartina Per pescare Perché per due mana Pesca una carta Istantaneo Poi pesca carte Pari al numero di carte Chiamate inventario frenetico Dal tuo cimitero Più la utilizzi Più peschi carte Alla seconda volta che la utilizzi Pescherai due carte Alla terza volta Pescherai Quattro carte Sì Sostanzialmente funziona così Poi negare Tre negare Per counterare Magine non creature Quattro rimbalzini Di piru piru Col piccolo furto E due mana Rimbalziamo un permanente Non terra Controllato da un avversario Poi per tre mana Uno in colore doppio blu Giochiamo un Farabutto Spiritello 3-1 Lampo con volare Che non può bloccare creature Senza volare Cioè Può bloccare solo creature con volare Quattro Sabotaggio sinistro Hard counter Counteriamo tutto Per tre mana Uno in colore doppio blu E sorvegliamo uno Tre Godwick La creatura blu Per eccedenza Triplo blu X E' un 3-3 Mago umano Quando entra nel campo di battaglia Pesca X carte Quindi Più paghiamo Più peschiamo carte E ogni quale volta lanci la magia blu Tappa un permanente Non terra Versaglio Controllato da un avversario Layline Ehm Un incantesimo molto potente Costa due mana in colore Doppio blu Se la leyline Nella nostra mano iniziale La possiamo mettere direttamente Nel campo di battaglia Senza pagare il suo costo di mana Iniziamo direttamente Con essa Sul campo di battaglia Quindi E' forte Soprattutto per questa cosa qui Sono forti le leyline Perchè possiamo giocare Praticamente a zero Se l'abbiamo nella mano Iniziale E possiamo lanciare magie Come se avessero lampo Poi 3 di simulacro solenne Che avevo visto nel video di ieri Ottimo rampino In Per qualsiasi colore Costa 4 incolori E' una 2-2 Che la tua carta è fatta Quando entra possiamo Passare il cassino Il nostro Rimorio Per una carta Terra base La mettiamo sul campo di batteria Tappata Poi rimescoliamo il mazzo Quando muore Peschiamo una carta Quindi Fa tutto quello che vogliamo Che faccia Poi la mana base Abbastanza semplice Due castelli Per scagliare 20 isole Due dedali Per Il dedalo sostanzialmente Per 5 mana Rimuoviamo dal combattimento Una creatura attaccante Un bloccante Bersaglio Quindi ci permette di difenderci Da Creature Pericolose Non è molto efficiente Però Visto che è una terra Alla fine Sta lì Nel sidewall Abbiamo un po' tutto quello che ci serve Per affrontare i vari mazzi Come la gabbia del becchino Conto i mazzi Che lavorano col cimitero O Cittano in gioco Creature Lancia delle tenebre Un'equip Che ci permette di Dare Travolgere Legame vitale Le nostre creature Per recuperare vita E con Un'umana possiamo Levare Antimolochi Indistruttibile A tutti i permanenti Il canocchiale Ci permette di Bloccare Ad esempio Un placewalker Di non potergli Più far utilizzare Le abilità attivate O un artefatto O qualsiasi cosa Abbia un' abilità attivata Anche una terra Quadrifoglio Ci permette di Raddoppiare Le avventure E abbiamo Il furfante Ad esempio O le fate dei desideri Sgombrare la mente Se peschiamo troppe carte Ci possiamo Rimescolare il mazzo O se affrontiamo Mazzomil Ashok Contro mazzi Che lavorano col cimitero Gli possiamo esiliare carte Il mito di luna Per duplicare cose Teferi Per pescare Fare vantaggio Cioè luttare E comunque Avere Una minaccia in più Tifone Ci crea una minaccia Ci pesca Ugin Distrugge cose Crea pedine Nella storia Pesca carte Ugin E' una bomba E due Manipolazione di massa Per prenderci cura di Planeswalker Creature avversarie Bene abbiamo visto Mazzoro In breve Vedremo Lui Simo Pensa E' sicuro Che sarà Il primo Mazzoro A vincere il titolo Di immondizia Adesso noi lo testeremo Lo vedremo Lo vedremo E se avrà ragione Gliene daremo atto Altrimenti Dovrà cominciare A avere un'attitudine Più positiva Bene ci vediamo Alla fine del video Per le considerazioni Finali Bye bye Siamo contro Nudelholz Nella prima partita Del mazzo Monoblo di Simone E allora Questa mano com'è? Ah abbiamo doppia ley line Doppia ley line E abbiamo un negare Proviamo Proviamo Simo Vediamo Vediamo Tu l'hai progettato così Il mazzo Così deve funzionare No? In realtà Non l'ho mai Provato questo mazzo Ma Invia Doppia ley line Nudelholz Eh? Come rispondi a questo? Solo che non abbiamo un cazzo da castare Abbiamo le fate Abbiamo un congedo Probabilmente È sacrifice Quindi dobbiamo prendere qualcosa Con la gabbia Ok Probabilmente Scorpione Va bene Lo rimbalziamo subito Lo rimbalziamo subito Giochiamo Ehm Negare lo teniamo per i riti dei villaggi Oppure giochiamo le fate No le fate vogliamo andarci a cercare la gabby del becchino Ok Scorpione attacchi Per un danno Va bene Marinide va bene Marinide va bene Ok Richiamo il dimora morti Rimbalziamo la Marinide Dobbiamo rallentarlo Sabotage Va bene Ehm Terminiamo il turno Probabilmente faremo sabotage Per Cercarci Ehm Una terra con sorveglia Ok Ok Attacchi per un danno Ci sta bene Marinide No Contro evocazione No Vogliamo una terra Un'itaccessore Pirupiru Pirupiru Ehm Va bene Vediamo cosa fa il nostro avversario Vediamo cosa fa il nostro avversario Ehm Amico mio Mi sa si ma forse ci vogliono più tardi sto mazzo Ok Vediamo cosa giochi Ti riprendi Ti riprendi l'orros Va bene Marinide Ok Veglia funebre Va bene Quella Quella Da fastidio Quindi la Rimbalziamo Oddio Simo Simo Che mazzo che mi hai fatto Fammi un mazzo che le terre si pescano Pescavo più terre con l'IZ Dai Ok Il problema è che il tuo mazzo non ha un'idea di gioco Cosa vuole fare con tutti questi counter? Come vinci? Va bene Siamo già morti lui ha fatto danni noi non abbiamo creature Dai Tipo indicoso Poi Inventario frenetico No Vogliamo una terra Ok Ah si ma mi sa che questa è persa eh Mi sa che è persa Marinide Va bene Congeli Intercessori Ok Ok Va bene Gioca Giocala pure Mio turno Mi spedda Mi spedda Essence Ok Ok Va bene Ok Ah ma l'ha fatto scappare Ho sbagliato Ho sbagliato Va bene Ok Ok Il mio turno E abbiamo pescato Per counter Ok Godwick 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 Vediamo un po' Vediamo un po' cosa gioca Ok Giochi palude Va bene Paga zero Paga zero Paga zero Paga zero Paga zero Paga zero Il primo genito comunque è E una carta non è instant quindi Vediamo se trada Godwick per macellaio Sono due danni in meno Ok Il sacerdotessa è un pericolo Però tanto non è che E' un creature Chissà se gioca Vediamo cosa gioca adesso Se noi giochiamo la fata di desideri Cosa ci possiamo trovare nella side per la fate Con le fate Amico Ok Egon Dai Macellaio No Piru piru Potrebbe andare anche bene Rimbalziamo La scema lì Va bene Però non abbiamo niente per counterarlo Termina il turno Sacerdotessa degli dei dimenticati Ramingo Ramingo rompi il cazzo Tanto sai Che la sacerdotessa rimbalzerai Te 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 Vuoi sai ritirgli il villaggio? Riti il villaggio Perdiamo il piro piro però Però non gli facciamo pescare carte Due carte in meno Dedalo E poi ci andiamo a cercare Con le fate La gabbia del becchino Magari Ok Ok Vado a 15 Piacci Mecchiamo nel dimora morte Va bene No ho sbagliato Ho sbagliato scusate Potevo farlo instant È vero che c'ho sta ley line Dall'anticipazione Dove cazzo sei? Dove sei gabbia? Ok gabbia Gabbia del becchino Contro evocazione E la lanciamo adesso Contro evocazione Contro evocazione Contro evocazione Probabilmente ci avrà robe per rubare creature E saccarle Ok giochiamo fate Così parliamo un danno Poi puoi rubarla e saccarla Pintanto che non mi uccidi Sacerdotessa Scorpione Va bene Godwick Godwick Lui saccherà due creature E mi farà scartare La fate dei desideri Ci sta Poi quando attaccherà Lancerò Godwick Instant Per pescare una carta Faremo così E traderemo Cocamingo Vediamo Nessun attaccante Termina il turno Termina il turno Egon Macellaio del Lord atroce Ok Peschi anche con Un Fantastico Ok Ok Va bene Me li prendo Così se sacca Non perdo Godwick Sacchi Ok Ok Lurrus Bene Ce l'avevi già in mano Ce l'avevi già in mano Si è un fenomeno Due Carti Peschiamo con Gedwick Pescaci la soluzione a questo problema Gedwick Un'altra ley line Congedus è vero Congedus è vero La possiamo fare Instant nel suo turno E poi lanciamo un'altro Gatewick Magari Ok E tappiamo Il Macellaio Vediamo Nessun'attaccante Nessun'attaccante Termina il turno Ok Ok Facciamo la dotessa La rimbalziamo E tappiamo E tappiamo Tappiamo La mingo Puoi saccare Instant se vuoi Giochiamo E giochiamo Un altro Che ha due Magari C'ha La classica Carta Al momento giusto Però Pagato Automaticamente E Blocchiamo lui Teniamo lui Ho sbagliato Che mazzo Di merda Simo Mamma mia Intanto Sono morto E l'ho giocata male Non la tengo più La ley line In mano Non la tengo più Uno Due E perdiamo pure Livelli Con Di A platino Simo Simo Wait you Ok Due Godwick Concedio severo Proviamo per l'ultima volta Credo in Godwick Credo in Godwick Vediamo se riesce a Ma basta Queste ley line Per questo che non voglio giocare A sta roba Forse conviene tenerla A side Ok Vabbè Però peschiamo le terre Questo è positivo Appena Casta qualcosa Lo rimbalziamo Chiora Convocatrice Va bene Stappi una terra Ok Cosa casti Melma mangia caroni Melma mangia caroni Rallentiamo Rallentiamo gli ramp Rimbalzando questo E Rimbalzandogli Chiora Uhhh Sabotage Ok Vediamo cosa giochi Sì Servirebbe una terra Per dare un senso Di esistere a Godwick Chiora no Contro evocazione No Vogliamo una terra Per castare a Godwick Mamma mia Che mazzo Simo Che mazzo Sono pieni di carte inutili Veramente Piene di carte inutili Piene di carte inutili Ci tocca castare il furfante E cominciare a pingare Adesso lui butterà questi in beast Lui a turno 4 ha una giocata Noi a turno 4 cosa giochiamo? Che ora? Va bene Tanto è un'altra Non hai sempre 50 in mano Quando uno è un campione Quando uno è un campione Che ha sempre le carte giuste Al momento giusto Non puoi neanche Arrabbiarti più di tanto Conto verde cosa facciamo? Con la sidebar cosa c'hai? Andiamo a furfanti Furfantel Pirupiru E attacchiamo Intanto non può parare Un'altra fatta di desideri Molto utile Mi sa che ce la farai Sto mazzo Mi sa tanto di immondizie Ok 17 E poi casteremo una fata Come bloccante Per la melma Almeno si rendono utili Eccola lì È arrivata la bestia dei cimenti Ecco E tu come gli rispondi Alla bestia dei cimenti? Dai però Cosa stai aspettando? Lascia una carta Va bene Va bene Va bene Va bene Ok Fate Ok Ma basta con stalle line E tu perdi proprio per questo Simo Stalle line qui Una carta Una carta Imbarazzante Eeeh Poteva attaccare anche con la fata Ma tanto Posso doppio bloccare la melma A meno che non abbia rimozioni Sicuramente il verde ha tutto Quindi Lui del paradiso Noi peschiamo carte morte E lui pesca invece creature Capito la differenza Perché Questo mazzo non è buono Non Non Ah Ho sbagliato Potevo ammazzarla Vabbè 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 Tanto non cambia molto Mi sto anche inalberato Ok Ora che abbiamo una cosa Possiamo Castare Godwick Possiamo castare Godwick A instant E pescare una carta Attacchi con la bestia la melma le duide? C'è incornare? Anguilas E distrugge un incantesimo Doveva giocarlo adesso Doveva giocarlo adesso Allora Neyline Bella carta eh Dai Con l'anguilas Distruggi Livien Come hai fatto castare la druida Vedi 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 Come brutta la vita Mi dai di travolgere E Noi blocchiamo quello Rimaniamo a tre Perdiamo tutto Oppure posso già bloccare quelle fate Che tanto Non hanno alcun senso di esistere Ovviamente la bestia C'ha Cautela Carta ben pensata Cosa possiamo usare? Ah instant Ora non abbiamo più la leyline Possiamo attaccare E fare sei danni E lo portiamo a cinque Ma siamo morti Possiamo castare un altro Godwick Ma siamo comunque morti Loro vanno a trivolgere Questo deve far lottare Quindi La partita è bella che è finita Concediamo Boerdi 1991 Vediamo se sarà L'ultima possibilità Per il mazzo di Simo Ok Teniamo Abbiamo una controvocazione Abbiamo Negare Abbiamo simulacro Se cazzo di fate Quasi quasi me le gioco come creatura Sai? Lo tengo a negare Cosa può avere lui attorno a due da giocare? Niente Proviamo ad aggrare stavolta Tanto Ste fate Non mi hanno convinto per niente Se non hai mana Non servono a niente Ecco La leyline ha senso Perché puoi scartarla Effettivamente Metti una carta inutile Per scartarla Ok Ora se giochi a uro Noi abbiamo il negare Che non serve un cazzo di niente Siamo bravissimi Il mio turno Peschiamo la terra E' vittoria Non è completa immondizia Simo Ci vediamo alla fine del video Per le considerazioni finali E siamo qui Sto mazzo è Cioè il risultato è che il mazzo è imbarazzante Perché ha fatto tre sconfitte E una vittoria Ma quella vittoria è una vittoria Di qualcuno che ha concesso così a Muzzo Ci sta La prendiamo e ce la portiamo a casa Ma il mazzo non va Il mazzo non ha Non ha uno scopo Non ha un senso Non si capisce cosa vuole fare Sostanzialmente Vuole castare cose a instant speed Ma la maggior parte delle sue cose Sono a instant speed A parte le creature E castarla e instant speed Sono creature comunque costose E non abbiamo Abbiamo sempre problemi di mana Nonostante la media sia 2,5 E 24 terra che è più o meno giusto Ma non peschiamo mai la terra che vogliamo Le leiline sono dei fermacarte Che io direi che la prima cosa da tagliare Sono queste Poi le fate Bocciate E poi bisogna trovare Bisogna trovare delle wincon Qualcosa Anche mettere una sfinge Mettiamo una sola Una sfinge Ecco se tu metti questa A posto della leiline E' già migliorato del 100% Almeno è un 4,4 Che fa qualcosa Almeno un 4,4 Che fa qualcosa Invece che di quel fermacarte lì Ti profetizza Se ce l'hai All'inizio della mano Ti profetizza 3 Poi probabilmente Con Godwick Tu vuoi magari delle opzioni Opzioni 4 opzioni E poi Sabotaggio sinistro Ehm Sabotaggio sinistro Mi sembra una carta un po' morta Io metterei Neutralizzare 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 Dove sei? Perché sono tutte Ecco Neutralizzare Quattro di queste Sabotaggio sinistro Lo tagli E poi qui Scegli una fra concedo Se è vero All'altra E' già è migliorato il mazzo Perché comunque è una minaccia Qualcosa che fa dei danni Poi Counterspell Ehm A sto punto io giocherei Counterspell Sinceramente Non mi fanno esaltare Ste Counterspell Qui Io giocherei Folletto ipnotico Almeno una creatura No vabbè Smorzare magari Qualcosa che Che possa Counterare un po' tutto Perché la maggior parte delle volte Quando ti serve Ehm Disperdere senza Hai negate In mano Quando hai Disperdere senza Ti serve negate Quindi E' la storia della vita Di questi counter Inutili qui Si potrebbe pensare A un rifare Con Ehm Vediamo un po' Blu Creature blu Creature blu Creature Costo 4 5 Blu Vediamo un po' cosa abbiamo Non c'è tanta scelta Effettivamente Kefnet Non è male Tassa Non è il mazzo C'è il cavalcante Che comunque Ha una minaccia Potresti giocare Entità La folgorante Mettere più Chip Spell Ehm Per poterlo castare Un costo di meno Ma forse Rende di meglio Ehm Mazzo Ehm Scrutatore Della Foschia Tricks Non è il massimo L'abbiamo imparato a conoscere Che ruga addirittura Che ruga addirittura potessi mettere Sai Comunque Adesso aspettiamo di vedere Zendikar cosa ci riserva per blu Comunque questo mazzo è secondo me da rifare completamente Questa potrebbe essere un'indicazione Se mi mandate mazzi che volete che tritino Assicuratevi che siano Che abbiano I requisiti per non fare brutta figura Perché mi dispiace se fate brutta figura Non è che ci godo Poi se invece di qualche altro youtuber Non mi faccio problemi Anche se il mazzo fa schifo E lo derido Ma visto che voi siete la mia community Non è che voglio ridere di voi Avete capito Comunque Se Avete mazzi da inviare E volete che li triti Li torturi In raw Iscrivetevi al discord C'è la sezione apposita Mi raccomando Lasciate un like Al video Iscrivetevi Al canale In questo modo continueremo a crescere Arriveranno sempre nuovi video E Se avete critiche Commenti Suggerimenti Lasciatevi qua sotto A me Fa sempre molto piacere Di allogare con voi Per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo Bye Bye Ciao Ciao